Buongiorno a tutte e tutti, direi di cominciare. Siamo qui per un'ennesima giornata, ma non bastano, celebrativa di questi 70 anni dal primo voto delle donne che non è solo celebrativa perché parliamo sempre di cose assolutamente attuali e lo vedremo. Sono 70 anni, a 70 anni di distanza le storie, le esperienze che sentiremo non sono affatto invecchiate e queste 21 costituenti fecero allora un lavoro straordinario anche se invisibile, infatti in merito a chi adesso sta cercando di portarlo alla luce. Si immaginarono un impianto di società moderna e erano strettamente coinvolte nel rappresentare i bisogni dei cittadini italiani e italiani, si occupavano di parità dei salari, opportunità di accesso alle professioni, difesa dei più deboli nella società. E ci siamo ancora, non è che abbiamo risolto, sono pratiche ancora aperte che incrociano molto la sensibilità delle donne in politica. Ecco, quindi benvenga questa possibilità di riflettere su queste cose anche con un occhio all'attualità. Questo incontro è stato promosso dal gruppo PD alla Camera, dalle Democratiche e dalla Fondazione Nilde Iotti, la cui Presidente è qui in prima fila e saluto, Olivia Turco. Allora direi che diamo subito la parola senza perdere tempo perché ci dobbiamo dare anche un ritmo negli interventi. Ettore Rosato. Grazie, grazie veramente. Credo che poi sia un po' uno stile delle donne non perdere tempo. Assurdo, bravo. Io mi adeguo anche, dico che sono veramente grato alle colleghe, a Roberta per aver promosso questa iniziativa, Olivia Turco e la Fondazione Nilde Iotti per non solo questa iniziativa ma la costante collaborazione che ha con il gruppo del PD, consentitemi una banalità, ma per me che sono già di mio onorato di fare il capogruppo di un gruppo così grande, così importante, essere oggi un tavolo di tutte donne, non solo quelle che sono qui presenti ma quelle che arriveranno con una storia, con un profilo politico così marcato e così importante nella storia della nostra politica italiana per me è una fonte di notevole soddisfazione nel vedere che la politica italiana è cambiata, è maturata pensando a 70 anni fa quando ho iniziato il percorso con il voto alle donne, il primo voto alle amministrative poi al referendum costituzionale, il percorso fatto, una strada che peraltro le donne si sono conquistate si sono conquistate da sole con la resistenza armata e non armata, quindi un percorso cui diciamo la società è arrivata per determinazione della forza politica e della forza sociale che le donne avevano conseguito in quel periodo terribile del nostro paese. Abbiamo ricordato in questi mesi con alcune iniziative la figura di Nilde Jotti, la figura di Tina Anselmi due mostri sacri per noi rispetto alla capacità che hanno avuto di incidere nella società non solo di rappresentare le donne ma di incidere nella società con profondità con la loro azione politica, con la loro capacità di convincere una platea più ampia fatta per lo più di uomini che bisognava andare in una determinata direzione e io penso che questo sia il messaggio che noi abbiamo imparato abbiamo imparato in un contesto che è molto cambiato oggi il nostro gruppo parlamentare ha 112 donne, il 37%, il 37% è meno del 50% ma è il 37%, è il gruppo in cui sono più numerose a presiedere la Camera c'è Laura Boldrini, una donna, la terza dopo Nilde Jotti e Irene Pivetti c'è un segno di appartenenza, di rappresentanza molto più forte che si vede all'interno della società oggi io lo dico anche nel quotidiano, le colleghe Marina e Roberta con cui condividiamo più spesso le riunioni di gruppo perché con Valeria ci si vede solo nelle occasioni diciamo straordinarie il contributo che le donne portano nel dibattito è un contributo che non viene differenziato per nulla se non nelle specificità e nelle capacità anche di approcciarsi ai temi in maniera molte volte più pragmatica e più pratica e penso che il nostro gruppo ha un valore, una capacità più ampia che nel passato proprio perché oggi c'è veramente una parità di genere all'interno dei nostri organismi c'è veramente una condivisione delle scelte c'è un punto di vista che ne viene fuori completamente bilanciato con un importante segno di differenza rispetto a quanto accadeva in passato abbiamo molta strada da fare, siamo ancora a 32esimi consultavo i dati rispetto ai parlamenti nazionali nella graduatoria naturalmente ci sono i parlamenti dei paesi del nord Europa che sono più avanti ma non solo quelli sono più avanti quindi io penso che anche le scelte che abbiamo fatto in questa legislatura sulla riforma della Costituzione prevedendo la parità di genere nelle leggi elettorali ma anche nelle leggi elettorali sulle europee e per le regionali legge recente che abbiamo approvato contribuiranno in maniera più importante a fare ulteriori passi avanti perché siamo consapevoli che qualche volta per esempio nel nostro gruppo c'è stata una forte scelta politica di mettere un numero importante di donne altri gruppi sono completamente privi di rappresentanza di genere quindi non si può lasciare solo alla volontà dei singoli partiti ci vuole una normativa che preveda e noi su questo penso che abbiamo fatto bene ad insistere a innovare e dobbiamo continuare su una strada di questo tipo anche la nostra legge elettorale l'Italicum che se ne dica perché poi naturalmente questo suscita altri tipi di dibattiti ma su questo punto è una legge che è stata sicuramente innovativa lo dimostra anche il dato della nostra rappresentanza nell'Europarlamento il 22% dei europarlamentari è donna rispetto a altri paesi che hanno percentuali di tutt'altro tipo è una media che è sicuramente più alta abbiamo fatto passi importanti anche nei consigli di amministrazione anche le nomine fatte dal governo in questo senso sono importanti dall'agenzia delle entrate alla presidenza della RAI insomma io credo che siano significative perché non prese scelta una persona perché donna ma scelta una persona perché competente perché capace e anche perché donna ma il curriculum è stato prevalente nelle decisioni che sono state assunte e penso che questa sia la strada giusta accompagnata da una legge che obblighi a fare anche questa strada perché come dicevo prima ci sono anche chi queste cose non le ha mai volute prendere in considerazione questo è anche l'anno in cui lo dico perché noi siamo il partito democratico noi speriamo che ci sia la prima donna presidente degli Stati Uniti è l'anno in cui per la prima volta insomma intanto è candidata auguri di buona guarigione senz'altro ma penso che anche questo sia un segno di una società che è molto cambiata e io penso che nel futuro in Italia con tempi molto più rapidi di quelli che immaginiamo avremo anche leadership sempre più consolidate anche di donne che si stanno facendo spazio giovani che si stanno facendo spazio nella politica italiana con sia abbiamo visto alle elezioni amministrative con donne che hanno responsabilità nelle grandi città ma penso che il futuro riserverà anche sorprese importanti su altri versanti io sono qui per ascoltare per augurarvi un buon lavoro per tracciare anche per dire anche che penso che molte altre cose dobbiamo fare anche Roberta nei termini di conoscenza sul territorio in pezzi del paese dove bisogna dirselo con franchezza c'è un ritardo più grande nel coinvolgimento delle donne nei ruoli di responsabilità non solo in politica ma anche in ruoli di responsabilità perché non è solo la politica ci sono le associazioni ci sono i soggetti di rappresentanza sociale e c'è un pezzo del paese dove questo ritardo è più marcato ecco io penso che noi dobbiamo sviluppare sempre con grande attenzione con grande rispetto ma anche con grande determinazione un'attenzione, un dibattito che sia di coinvolgimento che sia di crescita culturale e la crescita culturale secondo me avviene sì facendo le leggi che servono ma anche dimostrando come la capacità delle donne quando sono in azione quando hanno ruoli di responsabilità possano incidere in termini positivi nella qualità delle scelte che vengono assunte io sono convinto che questo emerge con chiarezza nella politica che noi abbiamo praticato nelle scelte che anche il governo ha fatto e penso che questa strada sia una strada da percorrere ancora con solida certezza che sia l'unica strada percorribile andiamo con serenità nei confronti di un'epoca in cui abbiamo visto delle grandi donne che hanno illuminato la strada, il percorso della Repubblica e la nostra storia ma sapendo che c'è una prospettiva per il nostro paese di migliorarsi anche aprendo più spazi alle donne in politica e nell'impegno sociale Grazie Etero Rosato vorrei solo prima di dare la parola a Roberta Agostini dire che effettivamente in un momento di crisi anche di degrado etico insomma non è un momento molto felice non solo per la società italiana tanto più secondo me l'elemento femminile ha ragione d'essere e ha delle carte in più da giocare l'altro giorno c'era un'intervista molto bella a Giorgio Napolitano che parlava di politica della rabbia in questo momento c'è tantissima rabbia anche irrazionale ed è un elemento respingente anche un po' inquietante ecco io penso che le donne in politica si parla genericamente ma si può dirlo questo elemento invece di razionalità di pazienza nel cucire nel tessere ce l'hanno e che quindi in un momento di crisi possano davvero dare un contributo positivo altra cosa che in una fase di post democrazia manca o rischia di mancare è una visione un progetto di società e anche in questo caso in genere le donne sono molto pragmatiche come diceva Ettero Rosato e questa visione di società di quella che vorrebbero ce l'hanno credo ben chiara quindi c'è uno spazio enorme Roberto Agostini Vado là? Posso? Sì Sì Autorizzata Io ringrazio il gruppo ringrazio la fondazione Iotti ci siamo insomma messi un po' al lavoro per organizzare questa questa occasione la nostra iniziativa si aggiunge un po' anche alle altre che si sono organizzate in tante parti d'Italia che la stessa fondazione Iotti ha organizzato e anche qui alla Camera per celebrare il settantesimo anniversario del voto alle donne io voglio ricordare in particolare quella che è stata promossa qui dall'Udi ad esempio qualche mese fa con tante autorevoli testimonianze fino a quelle organizzate anche in questa sala dalla Presidente Boldrini nella mostra che prosegue qui accanto che vi invito se non l'avete ancora vista ad andare a visitare io penso che sia molto importante questo lavoro capillare un lavoro capillare sulla memoria e ci hanno spinto a organizzare quest'incontro in primo luogo la necessità di celebrare e rendere riconoscimento alle donne che furono protagoniste di una fase straordinaria della nostra storia e che aprirono poi la strada alle altre che sono venute e che troppo spesso non sono considerate in maniera adeguata qui con noi oggi ce ne sono alcune vedo Luciana Romoli in prima fila poi prenderà la parola Marisa Rodano io è in platea e la ringrazio per essere qui con noi anche Marisa Ombra che ora è anche Vice Presidente dell'Ampi Nazionale in secondo luogo noi io credo dobbiamo provare a restituire il senso del voto come quello di una conquista come quello di un evento che segna profondamente il carattere della democrazia italiana che rappresenta una cesura con la storia del passato un momento chiave nel processo di ricostruzione del paese cioè un fatto che va messo a pieno titolo nella storia nella storia d'Italia che è un fatto che contribuisce alla costruzione dell'identità nazionale del senso di appartenenza a questo paese e in terzo luogo io credo che dobbiamo provare a intrecciare la storia del passato la riflessione sul passato con quella sul presente e sul futuro delle donne italiane perché se non leggiamo adeguatamente anche le difficoltà che le donne trovarono nel percorso di costruzione della cittadinanza fatichiamo anche a comprendere io credo i motivi della particolare condizione delle donne italiane che per tanti aspetti è più difficile e più contraddittoria di quella delle donne in tanti altri paesi europei insomma noi vorremmo non dimenticare in una fase storica e politica nella quale le percentuali di astensionismo aumentano di anno in anno e vengono quasi considerate fisiologiche invece l'emozione delle donne che per la prima volta vanno alle urne il 2 giugno del 46 e ancora prima il 10 marzo nelle elezioni amministrative e così come non vogliamo dimenticare il valore dell'impegno di donne straordinarie come Anna Kulischoff come Anna Maria Mozzoni che furono le pioniere a partire dai primi anni dell'unità delle lotte per il suffraggio nell'Ottocento e che ci lasciano la testimonianza di una battaglia come dire appassionata tenace controcorrente rispetto all'epoca come sappiamo la decisione di ammettere le donne al voto era già maturata nel 44 e poi venne presa formalmente un paio di mesi prima della conclusione del conflitto perché sia Togliatti che De Gasperi quindi i leader dei principali partiti di massa si erano convinti della necessità di includere la metà della popolazione pensante del paese nella vita politica e le associazioni l'UDI il CIF e poi quelle che avevano dato vita al comitato provvoto si fecero però parte attiva nel ribadire che non si trattava di una concessione un gruppo di donne rappresentative dei partiti del CLN inviò al CLN stesso prima una mozione che sottolineava che il governo stava ignorando l'estensione dei diritti politici alle donne nel dare inizio alle operazioni preparatorie per il voto e poi una vera e propria petizione popolare nella quale si stabiliva il nesso tra la lotta contra l'oppressione tedesca condotta dalle donne e il diritto a partecipare pienamente all'opera di ricostruzione del paese per rendere alle donne d'Italia quella giustizia e quell'eguaglianza di diritti che è alla base di ogni ordinamento democratico sappiamo come andò il decreto logotenenziale del febbraio del 45 estese alle donne il diritto di voto ma non l'eleggibilità con una svista che fu però corretta l'anno dopo ma che insomma la dice lunga sulla difficoltà di una cittadinanza piena che durò a lungo nella nostra storia e che tuttora io credo permanga con caratteri forse diversi ma scrivono le storiche che il diritto di voto apparve allora quasi come una scelta obbligata in coerenza col principio del suffragio universale quasi un passo naturale nell'ordine delle cose ma in realtà appunto fu una rottura che contribuì non solo a fondare la natura della democrazia italiana ma anche a cambiare l'ordine familiare e le relazioni tra i sessi se si leggono le cronache dell'epoca a partire appunto da quelle di fine ottocento ci si rende conto della paura che l'introduzione del diritto di voto alle donne non solo potesse cambiare in modo inatteso e sconvolgere gli equilibri politici chissà come voteranno queste donne che improvvisamente hanno il diritto di voto ma cambia anche l'ordine familiare la paura che potesse sovvertire l'ordine familiare c'è un film dello scorso inverno di una regista Sara Gavron soffragette che racconta molto bene la lotta per il diritto di voto delle soffragette in quella situazione erano inglesi però descrive come l'esclusione dalla vita pubblica delle donne corrispondesse alla minorità e alla subalternità di quelle donne sia nel lavoro che nella vita privata e però con la partecipazione delle donne alla resistenza col tributo pagato dalle donne alla resistenza le masse femminili si conquistano il diritto alla scena pubblica furono protagoniste degli scioperi delle lotte del centro nord della ribellazione di Napoli furono partigiane furono staffette organizzarono capillarmente la resistenza civile e insomma il 2 giugno la percentuale delle votanti fu quasi uguale a quella maschile e alle amministrative furono elette moltissime 2000 consigliere comunali e le 21 elette all'assemblea costituente le nostre madri costituenti erano poche perché erano 21 e diverse tra loro erano comuniste erano democristiane erano socialiste dello schieramento dell'uomo qualunque con storie idee e provenienze diverse ed erano accomunate però dalla terribile storia comune della guerra dalla consapevolezza dei problemi e della necessità della ricostruzione dell'urgenza di lasciarsi alle spalle il ventennio fascista insomma come lo definisce Scopola dal vissuto comune degli italiani e da quella base comune da quella vissuto comune loro costruiscono quel lavoro di squadra di cui parla spesso anche Livia Turco che ha lasciato un segno profondo io credo nella nostra carta costituzionale di questo lavoro poi ci parleranno le altre relatrici e in particolare Livia a me interessa sottolineare il fatto che a differenza di altri paesi la conquista dei diritti politici non si accompagna contestualmente alla conquista dei diritti sociali alla piena cittadinanza femminile anzi è molto lunga la storia della battaglia delle donne fino al 53 non potevano far parte della giuria popolare non potevano entrare in magistratura gli articoli del codice civile che confliggevano fino agli anni 60 gli articoli del codice civile che confliggevano con la parità dei conogi sancita in costituzione sono stati riformati negli anni 70 con la riforma del diritto di famiglia via via si sono costruite leggi a tutela delle lavoratrici fino ad arrivare all'81 dove si abroga quando si abroga il delitto d'onore la norme sul diritto d'onore sul matrimonio riparatore e bisogna aspettare come sappiamo molto bene il 96 perché la violenza venga riconosciuta come reato contro la persona e però anche solo il fatto che anche grazie al nostro lavoro in questa legislatura vedo qui Titti che è stata una delle protagoniste di questa battaglia la legge contro le dimissioni in bianco si è entrata in vigore solo qualche mese fa pochi mesi fa ci dice quanta strada noi dobbiamo ancora fare per una piena affermazione nella vita pubblica e una vera parità in quella privata i numeri in Parlamento e al Governo lo ricordava prima Ettore ci dicono che il soffitto di cristallo si è incrinato e si è incrinato grazie a una battaglia molto forte delle donne nei partiti nel Partito Democratico in particolare quindi grazie alle regole anche che abbiamo saputo mettere nero su bianco e però i numeri del Paese ci dicono che l'Italia è in fondo alle graduatorie europee per tasso di occupazione femminile tra quelli con più basso indice di natalità comincia a cambiare una rigida divisione dei ruoli si fa più forte l'aspirazione all'autonomia alla libertà delle donne anche supportata da processi formativi di successo in particolare tra le giovani donne ma la struttura di welfare del Paese si regge ancora su un ruolo femminile di supporto e di supplenza e ce lo dobbiamo dire c'è un maschilismo strisciante un sessismo strisciante o conclamato in alcuni casi molto conclamato che da noi è un po' peggio che in altri Paesi e si nutre di stereotipi e luoghi comuni e i numeri ancora ci dicono che le donne continuano a trovare più difficoltà degli uomini nello scegliere il proprio futuro così come la violenza di genere continua a mietere le sue vittime la vicenda della ragazza di Melito oggi la ministra Boschi non è qui con noi mi dispiace molto che lei non sia qui però è in Calabria è andata lì dove è accaduta questa ennesima e orribile episodio di violenza di gruppo contro una ragazzina contro una tredicenne e quindi la vicenda di quella ragazza è l'ultima in ordine cronologico ad aver fatto notizia sui giornali però con il suo carico di crudeltà di violenza di omertà e anche di criminalità ci parla di un problema enorme che è aperto nel cuore del paese nelle relazioni tra le persone tra gli uomini e le donne e di un problema di vorrei dire cultura subcultura diffusa noi in questa legislatura abbiamo compiuto alcune scelte fondamentali io credo abbiamo approvato la legge di ratifica della convenzione di Istanbul che è la strategia più avanzata più innovativa nel contrasto alla violenza e nel disegnare una società di uomini e di donne quella strategia dobbiamo applicarla dobbiamo trasformarla in politiche concrete abbiamo conquistato regole per la parità nella legge elettorale e nella riforma costituzionale molte misure utili contenute in provvedimenti diversi per la conciliazione il sostegno alla maternità il lavoro e le pensioni fino a norme per l'educazione di genere in settima commissione si sta discutendo proprio la legge relativa all'educazione all'educazione di genere ma quanto ancora dobbiamo fare quanto ancora dobbiamo impegnarci nelle istituzioni in particolare noi che oggi abbiamo questa responsabilità ma anche fuori dalle istituzioni per diciamo costruire quel cambiamento e quell'aspirazione al cambiamento che è nell'anima di tante donne e di tanti uomini questo per noi è un momento difficile di crisi economica e democratica ma anche un momento straordinario nel quale provare a compiere un salto di qualità e di innovazione in una politica diciamo noi di mainstreaming cioè che coinvolga l'intero governo a sostegno di un cambiamento indispensabile intorno ai temi del lavoro del welfare della conciliazione della condivisione della lotta agli stereotipi per i diritti dell'educazione alla parità rispetto tra i generi si gioca il futuro e la modernità del paese e si indirizza lo sviluppo in una direzione diversa da quella delle politiche di austerità le grandi riforme delle donne che hanno cambiato l'Italia dal diritto di famiglia all'aborto il divorzio fino alle leggi contro la violenza che citavo sono state l'esito di un movimento collettivo e di un confronto tra punti di vista e culture diverse che hanno condotto battaglie e costruito un'alleanza che ha cambiato l'Italia per tutto quello che dobbiamo fare ancora abbiamo uno straordinario bisogno di cultura politica del punto di vista delle donne per portare nelle istituzioni i bisogni le aspettative le capacità femminili un'idea più ricca ed inclusiva della democrazia per immaginare un modello di convivenza civile tra culture diverse in un mondo globalizzato in cui i confini sono sempre più difficili da tracciare nel quale per non cedere all'idea del conflitto di civiltà che troppo spesso passa sul corpo delle donne dobbiamo mettere in campo un'idea più inclusiva di relazioni di tolleranza di rispetto dei diritti umani fondamentali vedi la polemica estreva sul Burkini e per rispondere in maniera moderna e avanzata alle domande di diritti e libertà delle donne e degli uomini ci serve di tenere al centro il principio di autodeterminazione così come è stato pensato nella cultura delle donne così come per risignificare parole come libertà come eguaglianza come responsabilità e come dignità alle ragazze e alle donne che furono protagoniste della lotta di liberazione e del diritto di voto e alle pioniere che prima di loro aprirono la strada all'idea di parità e di emancipazione a quelle che sono venute dopo e che nel solco delle possibilità offerte dalla Costituzione hanno costruito la strada della cittadinanza femminile ma soprattutto questo anniversario dedichiamolo alle ragazze che devono cercare la loro originale strada per affermare autonomia e libertà e noi che siamo in tante oggi nelle istituzioni abbiamo il compito e il dovere di sostenere questa aspirazione alla libertà all'autonomia e anche un po' alla giustizia che in fondo cambiate le condizioni è la stessa aspirazione che ha mosso 70 anni fa quelle donne che hanno conquistato il diritto di voto anche per noi grazie grazie a Roberta Agostini che segnala appunto questa continuità che c'è tra l'impegno di allora e l'impegno che comunque ci vede oggi costrette anche costrette a dare un contributo Livia Turco ecco Livia Turco che con la fondazione Nilde Iotti fa un lavoro di recupero di storie che erano praticamente non conosciute dai cittadini dalle cittadine di questo paese perché il contributo delle donne è stato straordinario dal punto di vista delle leggi dal punto di vista delle battaglie civili però come dice lei invisibile non solo mi piace citarla ti cito Livia poi ti lascio la parola quando tu dici che le donne costituenti ci hanno lasciato una delle costituzioni più belle del mondo e ci hanno lasciato una lezione vivente di bella politica quella del bene comune che costruisce alleanze e coerente ai valori condivisi costruisce un legame costante con la vita delle persone ecco questo è come dire un manifesto tuttora estremamente attuale essere in sintonia con la vita delle persone grazie Livia grazie 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 a Roberto Agostini e a Ettore Rosato per la per questa opportunità e per la collaborazione come è stato detto avviata con la fondazione noi qui c'è anche Rosetta e altri ci stiamo molto dedicando alle costituenti alle madri della Repubblica se andate sul sito troverete un lavoro che parecchie abbiamo fatto proprio nel raccontare non solo la biografia ma soprattutto il contributo decisivo che queste 21 donne hanno dato per scrivere la costituzione più bella del mondo e queste madri della Repubblica nascono e la volontà di chiamarle così nascono se mi consentite l'ho detto tante volte lo ribadisco qui da un moto di profonda indignazione l'indignazione di sentir parlare della Repubblica italiana come una Repubblica che ha dei padri e non delle madri la battaglia che noi dobbiamo vincere e vincere soprattutto con le giovani come ha detto adesso Roberta perché a loro dedichiamo questo nostro impegno e che siano orgogliose di essere in un paese che ha una Repubblica con una Costituzione molto avanzata Costituzione che è stata scritta da uomini autorevolissimi sicuramente molto più noti che non quelle 21 giovani donne e da quelle 21 donne senza le quali alcuni articoli non sarebbero stati formulati così articoli non secondari articoli fondamentali come come l'articolo 3 della nostra Costituzione ma non è facile sintetizzare che cosa hanno rappresentato queste 21 donne e ciascuna aveva una sua storia aveva una sua personalità credo che però ci siano dei tratti comuni di queste 21 donne che vengono da storie così diverse e quindi io nel breve intervento voglio mettere in risalto questi tratti comuni che sono anche le eredità che ci lasciano queste 21 costituenti e la ragione per cui noi dobbiamo chiamarle madri della Repubblica intanto sono tutte donne che hanno una storia che le ha portato a vivere la battaglia della resistenza in modo diverso le comuniste nella clandestinità le cattoliche nell'associazionismo ma tutte oppure partigiane la grande partigiana come Tina Anselli la partigiana Gabriella ma tutte hanno vissuto la resistenza la resistenza che come ha scritto Pietro Scoppola in quel suo bel libro La democrazia dei partiti ha rappresentato il vissuto comune degli italiani eravamo divisi non avevamo un tessuto comune di valori però quel vissuto comune è stato un grande cemento e le donne vissero che sono state protagoniste di quel vissuto comune e poi quelle 21 costituenti rappresentarono una rottura storica perché per la prima volta nelle istituzioni fecero vivere quella che era la vita il pensiero l'esperienza delle donne e allora il primo tratto il secondo tratto comune oltre a quello di essere di aver vissuto ciascuna a modo suo l'esperienza della lotta partigiana il secondo grande tratto comune era e per me questa è una grande lezione per l'oggi che queste donne quando parlavano avevano l'ostinazione di parlare a nome delle donne italiane tutte loro erano un'elite ma loro parlavano sempre a nome delle donne italiane voglio citare un'espressione di Nilde Jotti perché però la trovate negli interventi di Maria Federici di Maria Iarvoli la trovate negli interventi di tutte aveva acuta un articolo di Noi Donne io penso al grave compito che aspetta noi donne elette nella Costituente mi pare che dietro di noi risuoni la voce di tutte le madri e di tutti i bambini d'Italia è una voce molto spesso dolorosa accorata che ricorda case distrutte deschi senza pane miseria continua e terribile noi dovremo lottare perché le tante rivendicazioni delle donne d'Italia siano esaudite sappiamo che il cammino è duro e difficile ma ci sorregge la nostra fede e la nostra volontà quindi il secondo tratto comune questo modo di esercitare di intendere la rappresentanza vogliamo strappare a tutti i costi risultati per le donne italiane e vogliamo a loro rendere conto in modo trasparente non solo gli interessi immediati ma l'altro grande merito che hanno avuto questi 21 costituenti è che delle donne italiane seppero leggere in profondità il bisogno di cambiamento e quindi insieme alle cose immediate il pane il desco l'acqua i bambini gli sfollati seppero attraverso un dialogo bellissimo tirare fuori le aspirazioni profonde ed elaborare una visione avanzata dell'emancipazione e liberazione femminile perché se andiamo a leggere i loro discorsi quello che emerge è un progetto di emancipazione delle donne che noi abbiamo sul tappeto da realizzare ancora in gran parte una emancipazione femminile per cui bisogna combattere le discriminazioni bisogna e ricordiamoci la condizione delle donne allora il codice maritale il patriarcato cioè ricordiamoci tagliamoci in allora e però superare le discriminazioni cambiare profondamente la società italiana riconoscendo però la differenza femminile questo è stato un tatto che ha consentito le donne comuniste cattoliche socialiste di dialogare tra di loro quindi una visione avanzata dell'emancipazione femminile e l'altro tratto che ci lascia un'eredità e che hanno praticato tutte è stata una concezione una visione avanzata della democrazia per ciascuna di loro la democrazia era partecipazione popolare costruzione della giustizia sociale realizzazione dell'eguaglianza di fatto non ci interessa soltanto l'eguaglianza giuridica vogliamo quelle trasformazioni sociali quella giustizia sociale quella eguaglianza di fatto che ci consente davvero di cambiare profondamente la società e quindi di realizzare una innovazione politica e poi l'altro grande elemento che ci lasciano in eredità è questa straordinaria capacità di dialogo sì io sono molto ammirata quando vedendo la costruzione di alcuni articoli di tutti gli articoli di come queste donne abbiano saputo ascoltarsi erano profondamente erano orgogliosamente democristiane orgogliosamente comuniste orgogliosamente socialiste erano orgogliosamente fiere della loro identità ma hanno saputo fare della loro identità un elemento di dialogo comune e lo si evince dal nell'elaborazione di tutti gli articoli fondamentali voi sapete che ci lasciano in eredità queste donne gli articoli come l'articolo 3 l'articolo 29 l'articolo 30 sulla famiglia l'articolo 31 sulla necessità del sostegno delle famiglie l'articolo 37 sul lavoro e la famiglia l'articolo 48 l'articolo 50 vissero anche delle sconfitte come sapete sull'accesso delle donne alla magistratura quello che colpisce è il modo con cui pervennero alla formulazione di questi articoli non a caso scritti in modo chiaro rigoroso non c'è bisogno di nessuna accademia della crusca chiaro rigoroso perché rigoroso fu il confronto tra di loro mi colpisce il modo con cui dialogano sul senso delle parole per esempio quando si affrontò l'articolo 37 missione familiare in commissione principale missione familiare volevano Dossetti e Moro Iotti e Togliatti dicono no attestiamoci su missione familiare perché missione dice già tutto poi nella la la parola che viene utilizzata è poi quella di essenziale funzione familiare quel rigore oppure quando Maria Federici si impunta e dice a proposito dell'articolo 48 non le attitudini non devono essere valutate le attitudini ma i requisiti ecco questo rigore nel linguaggio questa limpidezza nel dialogo questa chiarezza nella costruzione delle mediazioni è un patrimonio straordinario che noi troviamo nella scrittura non a caso di questi articoli della Costituzione e in ultimo e ho concluso io credo che l'altra grande eredità che ci lasciano queste donne sia proprio sulla politica sul senso della politica io credo che l'eredità non siano soltanto gli articoli l'eredità sia il modo di concepire la politica certo parliamo anche del tempo sono state protagoniste nella prima e nella terza commissione non nella seconda in quella che è definito l'assetto dello Stato e noi adesso abbiamo invece una ministra che è stata protagonista fondamentale quindi una donna protagonista fondamentale della riforma della seconda parte della Costituzione giusto segnalarlo perché segnala il passo in avanti è il cammino che abbiamo compiuto ed è giustissimo quante volte Neil de Jot ha detto modificare la seconda parte della Costituzione ed è giustissimo porre l'accento questo come sentite come sull'esigenza acutissima che noi abbiamo oggi di governabilità di efficienza di un rapporto tra il tempo della politica e il tempo della vita delle persone con Rosetta siamo state ministri degli affari sociali ci siamo occupati di sociali e sappiamo quanto è importante quanto le madri dei ragazzi disabili ci dicevano ok avete fatto una legge ma quando quando questa la vediamo e quindi oggi noi abbiamo da affrontare sicuramente questa necessità della politica insieme a questa io credo che le dobbiamo praticare ereditare fare nostro anche un altro cimento che è quello esattamente che ci lasciano donne costituenti e cioè il modo di intendere la rappresentanza io credo che noi oggi insieme alla alla politica che sia più efficiente alla politica che sia più semplice alla politica che nei suoi tempi si avvicina alla vita delle persone abbiamo bisogno di ridare senso alla rappresentanza politica ridare un senso alla rappresentanza politica e quelle costituenti sono una risorsa cui attingere ridare senso alla rappresentanza politica e ridare senso anche alla politica come noi come grande partecipazione popolare io penso che le donne di questo abbiano bisogno è che quelle costituenti sono state davvero luminose ed esemplari nella come dire freschezza nella testardaggine nella caparbietà in quel misto di orgoglio e di lavoro comune poi colpisce che loro si sentivano avevano grande rispetto per gli uomini si sentivano emil de jotti nel suo ultimo incontro con dossetti a monteveglio lo chiamava professore perché dice io in costituente soprattutto ho ascoltato avevano questa umiltà ma non tragga in inganno questa umiltà perché hanno sì ascoltato ma se non ci fossero state loro non avremmo quegli articoli così fondamentali della nostra costituzione e soprattutto non potremmo oggi riflettere su quel grande patrimonio del senso della politica e del senso della rappresentanza politica grazie a Livia Turco e anche alla sua consueta passione nell'esporre le cose e allora il senso della politica infatti è quello che a tratti manca e quindi ci vuole ci è molto utile tornare indietro per capire come si sono mosse le donne e direi di dare la parola a Marisa Rodano facciamo una piccola inversione rispetto all'elenco diciamo che avete sotto gli occhi e poi sarà la volta di Valeria Fedeli Marisa Rodano ci parla direttamente da testimone ma io innanzitutto vorrei scusarmi con tutti voi se il mio intervento sarà ho paura un po' lacunoso e confuso purtroppo l'età pesa pesa sulla memoria e sulla lucidità mi porta benissimo si deve credo che si debba constatare come è stato già illustrato sia dal presidente Rosato che dagli interventi che sono già stati fatti che il ruolo delle donne in Italia è radicalmente cambiato imparagonabile a quello che avevano 70 anni fa oggi le donne sono più presenti nelle istituzioni nelle imprese nelle università nell'informazione nella cerca scientifica vi ricoprono spesso come alcune delle qui presenti rincarichi di alta responsabilità credo però questo è già stato accennato che non dobbiamo dimenticare che ci sono anche aspetti negativi in primo luogo c'è da chiedersi se la cresciuta presenza delle donne abbia introdotto reali cambiamenti nel modo di fare politica cose a cui Livia Turco accennava a proposito delle costituenti e io personalmente ho l'impressione che ci sia una forte tendenza a omologarsi al modello maschile e che e che i media in genere continuino una pratica di presentazione delle donne prevalentemente come oggetti diciamo pure come oggetti sessuali inoltre l'Italia è ancora tra i fanalini di coda dell'Unione Europea quanto al livello di occupazione femminile permane la disparità salariale è insufficiente anche questo è stato ricordato da Roberto Agostini la rete dei servizi sociali che aiutino a conciliare lavoro extradomestico e impegno nella famiglia quindi c'è ancora molto lavoro da fare ma questa condizione attuale delle donne nel bene e nel male diciamo è il risultato di un lungo percorso nel quale le associazioni femminili hanno avuto un ruolo fondamentale cosa che non possiamo dimenticare e mettere da parte il 12 settembre del 1944 mentre la lotta partigiana era ancora in atto si era costituita l'Unione delle donne italiane allo scopo di organizzare le donne chiamarle all'impegno politico e prepararle all'esercizio del diritto di voto nei primi mesi del 1945 nasceva il centro italiano femminile come federazione dei movimenti femminili cattolici e della parte femminile dei movimenti cattolici in generale devo dire che dopo anni di contrapposizione di conflitto si raggiunsero tra l'Udi e il CIF e tra este e altri movimenti e gruppi femminili momenti di intesa e di collaborazione che sono stati molto produttivi credo che sia importante ricordare che si fosse costituita un'associazione l'Udi intenzionata a rivolgersi a tutte le donne indipendentemente dall'appartenenza meno a forze politiche dalla condizione sociale professionale dal livello culturale persino di quelle socialmente privilegiate io ricordo le polemiche ma volete difendere anche la signora Agnelli questa era una prima fondamentale novità rispetto alle forme associative che le donne si erano date storicamente nel nostro paese prima del fascismo generalmente connotate dal riferimento alla professione o da obiettivi programmatici limitati l'accesso all'istruzione oppure la tutela dei valori religiosi cioè vi era nella posizione dell'Udi l'intuizione che esistisse una differenza sostanziale tra uomini e donne che non pensava perciò che entrambi i sessi si riconoscessero uguali diritti che insomma le donne fossero portatrici per la loro tradizione la loro aderenza ai problemi della vita quotidiana di valori e di competenze diverse da quelle della parte maschile della società e che di conseguenza fosse indispensabile chiamarle a impegnarsi per adeguare l'assetto sociale per costruire istituzioni politiche a misura di donne oltre che di uomini opera 70 anni fa non facile l'italia nel 46 era in grande ritardo rispetto ad altri paesi dove le donne avevano il diritto di voto da moltissimi anni io ricorderò che in nuova zelanda le donne votavano dal 1893 in australia dal 1902 in finlandia dal 1905 nel 1910 c'erano già 19 elette nel parlamento finlandese in norvegia dal 1909 in danimarca dal 1915 in inghilterra dal 1918 in svezia dal 1921 in olanda dal 23 nell'italia del 46 la maggioranza delle donne erano casalinghe senza redditi propri ancora nel 61 secondo il censimento erano 13 milioni la parte delle donne analfabete o così e nuove hanno frequentato la scuola elementare era altissima soprattutto nel mezzogiorno dove ancora nel 61 il 10% era totalmente analfabeta la retribuzione delle lavoratrici sono spesso la metà di quelle dei lavoratori tra le lavoratrici prevalevano le donne impegnate in agricoltura abbraccianti mondine raccogliteci di olive o donne delle famiglie contadine avrebbe dovuto essere scontato che una volta ripristinate le elezioni democratiche vi devessero partecipare anche le donne ma come già ricordato Roberto Agostini non in tutti i partiti del CLN questa convinzione era pacifica c'era chi avrebbe voluto rinviare la decisione sul voto femminile all'assemblea costituente perciò sebbene convinti che il diritto di eleggere di essere redotte le donne se lo stessero conquistando nell'Italia occupata combattendo per la liberazione del paese il 7 ottobre del 44 Ludi assieme all'alleanza femminile per il suffragio alla Fildis aveva inviato un promemoria all'onorevole Ivanoe Bonomi Presidente del Consiglio sollecitando l'estensione delle donne del diritto elettorale attivo e passivo il 25 ottobre si costituì un comitato provuoto che raccoglieva oltre all'Udi la Fildis e l'alleanza femminile i movimenti femminili di tutti i partiti del comitato di liberazione nazionale si lanciò una petizione per diventare cliccare il voto alle donne e come sapete dopo molte pressioni il primo febbraio del 45 fu adottato il decreto legislativo luogo tenenziale 23 che stendeva alle donne il diritto di voto e poi successivamente anche il diritto ad essere elette anche se in realtà nel diritto di voto era implicito il diritto attivo e passivo se guardiamo all'opera dell'Udi e in genere all'associazione del femminile in questi 70 anni alle vicissitudini della loro storia dobbiamo riconoscere che ci furono momenti di subordinazione alle posizioni dei partiti penso per esempio alla campagna elettorale del 48 quando l'Udi si schierò entrò a far parte dell'alanzia femminile del fronte democratico popolare schierandoci di fatto al fianco dei partiti di sinistra mentre il CIF si schierava con la democrazia cristiana e ci furono anche momenti di disorientamento tra le vecchie associazioni femminili e l'avvento del movimento femministo dobbiamo però riconoscere che l'azione fatta ha segnato molto la storia del paese penso per esempio qui è stata ricordata la costituzione ma alla vengilia dell'insediamento della costituzione il 26 giugno del 46 ci fu una riunione promosso dall'Udi con le elette all'assemblea costituente nella quale si chiese di inserire parità giuridica con gli uomini in ogni campo riconoscimento del diritto al lavoro e accesso a tutte le scuole professioni e carriere diritto ad un'adeguata protezione che permette alla donna di adempiere i suoi compiti di madre uguale valutazione trattamento e compenso degli uomini per uguale lavoro rendimento e responsabilità tutte norme che poi come stato ricordato dalle via turco sono entrate nella costituzione penso alle iniziative a favore dell'infanzia contro l'uso delle armi da parte della polizia in servizio di ordine pubblico furono raccolte 3 milioni di firme in quell'occasione a sostegno dei contadini che occupavano terre incolte o malcontivate per ottenere fondi per le colonie estive per la concessione della pensione alle donne refusinate e violentate dai gumi e francesi per la causa sfollate e sinistrati contro gli sfatti e poi a partire dal 53 Ludi dichiarò che fine ragione da non essere era la battaglia per l'emancipazione femminile seguirono poi tante lotte penso il piano nazionale degli asinido la scuola materna pubblica l'obbligo scolastico fino a 15 anni un nuovo diritto di famiglia basato sull'eguaglianza l'eliminazione del codice rocco perché non dimentichiamoci che esistevano nel codice rotto norme diverse per uomini e donne sull'adulterio il delitto d'onore i figli nati fuori dal matrimonio erano definiti illegittimi e poi le famose battaglie sui consultori il divorzio la depenalizzazione dell'aborto contro la violenza sessuale e la violenza in famiglia dobbiamo dunque dire che le associazioni femminili hanno segnato la storia del nostro paese e e hanno contribuito molto a far diventare l'Italia di oggi quella che oggi è però credo che si debba dire che non possiamo essere del tutto soddisfatti di come sono le cose oggi che c'è ancora molto lavoro da fare che quindi bisogna rimboccarsi le maniche grazie davvero a Marisa Rodano io darei la parola a Valeria Fedeli che vicepresidente del senato ecco è proprio un caso di donna dentro le istituzioni con un incarico di grande rilievo e quindi c'è un osservatorio particolare dal quale probabilmente vede a che punto siamo ringraziare le democratiche il partito democratico il gruppo democratico della camera e la fondazione Nilde Iotti di cui mi onoro di essere tra le soci fondatrici giusto oltre che volontaria negli brevi spazi di libertà che mi consente il mio incarico di oggi io siccome sono state dette cose che condivido non intendo ripeterle preferisco fare una parte che di questo tipo qui in questa sala così come l'abbiamo fatta in alcune importanti città italiane come abbiamo fatto anche in altri luoghi in questo anno parlo anche di sedi istituzionali territoriali locali abbiamo tutti parlato dei 70 anni e del voto delle donne del contributo lo riprendo proprio perché è così decisivo e determinante sia del voto delle donne che se lo sono conquistato sia di come è scritta la Costituzione nei suoi articoli fondamentali la prima cosa che a me viene da dire ed è un primo impegno appunto da osservatorio e da responsabilità che si ricopre oggi nelle istituzioni per chi oggi c'è e devo dire ne approfitto perché c'è qui il capogruppo della Camera oltre che Marina Sereni e le deputate e le senatrici che sono qui presenti ma quando finisce il 2016 che succede? Perché faccio questa domanda a me stessa non ad altre? Perché per esempio un primo particolare che non è ininfluente per tutte le ragioni che qui abbiamo ascoltato è che non è possibile che non si racconti e non si scriva e non si introduca nelle nostre scuole la conoscenza esattamente di quel periodo ma soprattutto la metto così e non si cambi e non si dica nei libri di testo che la nostra Costituzione è scritta da madri e da padri della Costituzione guardate questo sembra ma è così il primo elemento rivolto giustamente alle giovani generazioni è conoscere e se nessuno ti fa conoscere visto che diciamo la sala di oggi è particolarmente non giovanissima siamo tutte come dico sempre lo ridico anche qua tutte siamo e tutti diversamente giovani ma le giovani proprio diciamo che stanno oggi nei banchi di scuolo del liceo o delle medie diciamo non lo leggono guardate questo non è una cosa secondaria lo dico perché per esempio al Senato su questo e credo che su questo già possiamo fare un lavoro comune con la Camera perché poi insomma siamo il partito di relativa maggioranza beh io penso che noi dovremmo prenderci l'impegno da qui alla fine dell'anno di votare alla Camera e al Senato una mozione che esattamente impegna il Governo e attraverso il Governo ovviamente la Ministra della pubblica istruzione esattamente a introdurre guardate semplicemente una conoscenza una verità storica che però è molto perché le cose che qui ci diceva Roberta nella sua introduzione che ci diceva con particolare passione come giusto che sia Livia Turco qua o come ci diceva Marisa Rodono prima poi arrivo ai problemi e però guardate il primo elemento è introdurlo e farlo conoscere perché se no resta se mi posso permettere all'interno di una straordinaria scelta di fare la fondazione una scelta straordinaria di alcune donne e di alcuni gruppi politici impegnati nella capacità di far conoscere e dire che cosa significa la prima parte della nostra Costituzione e come ci hanno contribuito ma poi finisce lì quindi la prima questione è questa c'è una seconda questione che secondo me è importante e che tra l'altro io condivido particolarmente che diceva Marisa Rodono e poi arrivo all'oggi alle contraddizioni che abbiamo anche nel percorso di conoscenza e non è indifferente in questa fase politica concreta di cambiamento c'è il ruolo delle costituenti delle madri costituenti sapendo anche far leggere che cosa è stato il linguaggio dentro agli articoli fondamentali ma anche il ruolo e la relazione Livia la diceva di rappresentanza delle donne italiane in realtà nel senso del legame diretto con ciò che la società e le donne in Italia in quella fase costituente in quella in quegli anni rappresentavano ne hai raccontato tu stessa alcuni punti fondamentali di aggregazione di che cosa hanno fatto e determinato però guardate è andata avanti questa storia allora anche dire oggi che una parte delle cose che qui Roberta ha detto nell'introduzione poi ci arrivo di cambiamenti che questa legislatura al 30% di rappresentanza femminile hanno introdotto è stato sì frutto di un rapporto e di una storia e di una conoscenza ma anche di relazione con ciò che oggi c'è e si muove nella società civile con le rappresentanze di donne e di associazioni che si mobilitano guardate ha un doppio valore questo intanto perché ti fa dire che ciò che è stato prodotto parzialmente insufficiente non ancora sufficiente sicuramente ma ciò che abbiamo avviato in questa legislatura è frutto certo di scelte politiche della propria composizione anche di donne e di alleanza con gli uomini perché poi i numeri in democrazia contano sempre per cui abbiamo determinato alcuni cambiamenti ma è stato altrettanto fondamentale guai a smarrirlo guai a smarrirlo anche nel proseguo il fatto che si sono tenute relazioni si sono mobilitate associazioni realtà di diverso tipo non importa i nomi ma le aggregazioni nella società che sono esattamente parte di una capacità di relazione tra ciò che produce in sede legislativa e il suo rapporto con la rappresentanza perché il tema della rappresentanza e della qualità della diciamo così di quello che tu fai in una sede istituzionale è assolutamente un tema che c'entra con la politica che c'entra con come fai la politica e c'entra come tu ti assumi il tema della rappresentanza che non è solo la rappresentatività e qui faccio la ragione della distinzione proprio diciamo così per chi ci crede per chi lo ha studiato per chi diciamo si è collocata dentro ad una conoscenza della nostra costituzione di madre e di padri costituenti io penso che questa legislatura abbia fatto non mi permetto di dire in continuità ma riconoscendo lo straordinario e unico valore di quella stagione di quelle donne abbiamo provato a fare due cose che io considero un elemento di lettura che non esce mai che non esce mai la prima è stata quella di comprendere che benché loro fossero 21 su un'assemblea di 500 erotti il metodo della diciamo così del dialogo fra differenti culture era l'elemento vincente a me lo ricordava sempre Miriam ma fai proprio per dire sappi che l'identità è fondamentale della tua cultura della tua posizione ma se vuoi superare l'ostacolo più profondo la discriminazione che ne attraversa tutte tu devi sapere che devi riuscire ad avere le alleanze con le altre donne perché il tema della rappresentanza dà la forza e poi ti aggrega e questo secondo me è stato un elemento che noi abbiamo provato a fare facendo che cosa guardate facendo un'operazione che io voglio rivendicare nel rapporto interno e nel rapporto con le associazioni noi abbiamo esteso lo diceva Roberta io gli do questo valore bisogna dirlo anche dandogli la forza politica secondo me di questo quindi anche della determinazione perché è stata una battaglia non ce l'hanno regalato neanche in questa legislatura tutte le leggi che abbiamo fatto per estendere e far diventare la rappresentanza dentro ogni livello istituzionale europeo nazionale regionale e dentro la seconda parte di riforma della nostra costituzione con l'articolo 55 con l'altro articolo per elezioni delle future assemblee regionali guardate è una scelta di allargare e rendere strutturale la rappresentatività cioè un fatto democratico tutte le assemblee devono essere composte diciamo senza discriminazione poi guardate io non mi appassiono in sé al 50 e 50 mi appassiono al fatto che nessuna assemblea elettiva può vedere uno dei due sessi in questo caso le donne era sotto rappresentate del 40% perché se no c'è discriminazione cioè non c'è attuazione dell'articolo 3 della costituzione non sto parlando d'altro e per fortuna nell'articolo 3 della costituzione tra il primo e il secondo comma c'è il famoso di fatto che è lo straordinario impegno per il quale tu sì hai riconoscimenti giuridici ma se non è di fatto l'uguaglianza e la condizione di partenza paritaria tu non assolvi secondo me esattamente un elemento democratico guardate questo non è indifferente perché nei vari passaggi non è stato così scontato portare la casa dove è stata la forza e la determinazione la convinzione che anche le donne dentro a questa assemblea costituente diverse per cultura per età per provenienza però hanno scelto un punto di allargamento della rappresentatività io penso che ci manchi io qui sono sempre una che mette i piedi nel piatto io penso che ci manchi diciamo ulteriormente di costruire di più la rappresentanza perché la rappresentatività adesso questa legislatura la può consegnare alle giovani alle meno giovani diciamo a chi vuole se ovviamente il tutto viene lo dico con sincerità io non per schieramento ma se non viene consolidato con il referendum confermativo io come lo dico in giro ovunque lo dico anche qua poi si può ovviamente avere opinioni diverse ma per chi crede ad una democrazia di donne e di uomini come elemento di civiltà per tutte dico che l'articolo 55 la sua modifica è l'elemento anche per l'elezione dei consigli regionali è un elemento fondamentale perché se no tu torni indietro cioè non hai questa forza l'articolo 51 non ci ha consentito di avere fino in fondo noi abbiamo dovuto conquistare leggi ma costituzionalizzare un elemento di equilibrio di rappresentanza di rappresentatività scusate tra donne e uomini è un elemento fortissimo quando dico che c'è un elemento sulla rappresentanza invece è un tema vero perché il tema vero della rappresentanza a cosa ti porta al fatto che questa legislatura io non lo riprendo sono state dette già delle cose ne abbiamo fatte anche di più insieme sul terreno della qualità proprio della qualità delle politiche che superassero le discriminazioni tra le donne ma lo diranno altre ancora in più ne abbiamo discusso in tante altre occasioni ma noi non possiamo sottrarci al nocciolo duro della più profonda discriminazione di sesso che c'è nel nostro paese apro una piccola riflessione non so se tutti la condividete nella lettura ma per il studio che ho fatto io c'è primo comma dell'articolo 3 dice che non ci si può discriminare voi sapete anche chi l'ha messa la parola sesso ma la parola sesso non è insieme a tutte le altre perché la discriminazione di genere e di sesso in questo caso le attraversa tutte lo dico perché dal punto di vista poi della qualità delle politiche ha detta Lina Merlin cioè ci ha fatto una battaglia lei su questo però la qualità delle politiche a questo punto ti porta a non poterti accontentare dei dati diciamo così più gravi che Marisa riprendeva e che io riprendo velocemente noi adesso siamo il paese con il tasso di occupazione femminile più basso dietro di noi non c'è più neanche Malta c'è la Grecia e la Macedonia lo dico perché e questo è un report del 2015 però oltre a dare i dati vogliamo dirci che il nocciolo duro della più profonda discriminazione verso le donne si chiama maternità che è esattamente la cultura della differenza che è una modalità anche di saper coniugare l'uguaglianza delle opportunità riconoscendo la differenza non è uguale mettersi in una logica di politiche che superano le discriminazioni verso le donne se non hai e se non affronti questo terreno quindi anche il tema della parità poi per chi diciamo ha anche riletto alcune madri costituenti e quello che hanno fatto di straordinariamente importante su questo terreno del lavoro e anche della maternità possiamo ricordare qui chi ha fatto la legge sulla maternità Teresa Noce ovviamente per dire diciamo che molte di queste cose formalmente ci sono noi siamo il paese siamo il paese che ha assolutamente dal punto di vista formale e legislativo straordinarie leggi al di là dei tempi in cui le abbiamo fatte però dobbiamo ragionare sull'attuazione perché e dov'è il nocciolo duro non c'è niente da fare il nocciolo duro che è la cosa più stereotipata più difficile più da pregiudizio diciamo così fatto che non dichiarato è che se tu sei donna sei potenzialmente madre non sei e non puoi essere una cittadina attiva in generale l'abbiamo visto sul fatto di partecipare al voto nella discussione di 70 anni fa ma non sei nella condizione di rispondere ai criteri dentro al mondo del lavoro della produttività che si fa sei un costo non sei una risorsa allora questo è il nostro tema di oggi rompere da questo punto di vista parlando però posso dire innanzitutto con le donne che stanno fuori dal Parlamento perché quando abbiamo affrontato il fatto della condivisione delle responsabilità dentro la famiglia lo diciamo tutti che questo è il nocciolo ma quando lo affronti con le politiche concrete tu hai delle contraddizioni anche nel campo della relazione con le donne questo è un tema assolutamente di cui essere consapevoli per cui il tema non è la rivendicazione ma è costruire le condizioni concrete della condivisione di maternità e di paternità perché questo poi è l'elemento della decisione ed è anche un cambio qualitativo secondo me importante lo chiudo perché dico che c'è questo elemento e sono contraddizione di andare avanti quello è il punto fondamentale tu vuoi dare autonovia vuoi rispondere alle cose più straordinarie scritte nella prima parte della nostra Costituzione dalle madri costituenti che hanno convinto lottato e vinto insieme ai padri costituenti beh tu devi andare al nocciolo di questo non puoi accontentarti della parità giuridica devi esattamente affrontare il tema della parità sostanziale guardate non apro il campo perché diciamo devo stare in minuti ristretti ma è la stessa cosa che riguarda la questione di come si contrasta la violenza degli uomini sulle donne che diciamo così è uno degli aspetti noi abbiamo fatto delle cose ma il punto è anche la lettura che tu fai cioè se tu non individui bene qual è l'ossatura di fondo quindi parlando con tutte le diverse culture su questo tu non la affronti e non la superi perché fai una scelta dietro l'altra ma non la superi la chiudo dicendo così io penso che noi ereditiamo delle cose a cui bisogna sempre dire grazie la prima cosa da far conoscere alle giovani generazioni è che senza questa prima parte della Costituzione loro non sarebbero nemmeno in una condizione di libertà e di azione nello stesso tempo bisogna sempre secondo me dire che ciò che fa star bene che crea un paese una condizione nel lavoro nella vita che fa star bene riconosce la differenza e il valore delle donne è un paese in cui stanno meglio anche gli uomini guardate anche questo nella comunicazione delle giovani generazioni è un altro elemento importante e il tema però è proprio per questo noi questi cambiamenti dobbiamo farli insieme questa qualità è un pezzo su cui noi ci dobbiamo impegnare prossimamente perché fatto l'allargamento diciamo democratico la qualità della rappresentanza secondo me è una sfida che noi oggi ci dobbiamo prendere non possiamo finire diciamo l'anno o la legislatura senza secondo me aver intaccato esattamente il punto più forte senza questo livello di autonomia le donne non scelgono non possono scegliere non sono libere di scegliere dove le donne non sono così libere di scegliere secondo me noi facciamo fatica ad avere costruire fino in fondo e sostanzialmente di fatto un paese civile per tutti grazie grazie a Valeria Fedeli che come è consueto è molto schietta è andata subito al punto e tra l'altro il discorso di uscire non dall'autoreferenzialità che è un termine negativo ma comunque da ristretto gruppo di chi si occupa sempre di queste tematiche e portarlo nelle scuole cioè raccontare nelle scuole cosa è stato e che cosa può essere è un passo fondamentale perché se no ci raccontiamo sempre tra di noi le cose quindi questa è tra l'altro una proposta operativa che lei fa io darei la parola a Rosa Russo Iervolino che tra l'altro è anche figlia di una madre della Repubblica oltre che già Ministra dell'Interno ma io vi ringrazio e ringrazio soprattutto Roberta per questo incontro che scusate ma siccome io sono una persona estremamente concreta penso che questo incontro non debba finire questa sera noi siamo in una situazione di profonda crisi del paese di crisi economica di appunto sfiducia dei cittadini nei confronti dei politici di appunto anche vendita di tante illusioni e se la cosa fosse possibile io pregherei Roberta Agostini e Livia Turco di far stasera stessa tirar fuori un piccolo comitato di studio alla fine di questo nostro incontro e questo comitato di studio dovrebbe buttare giù 4-5 punti che noi riteniamo essenziali che affidiamo al capogruppo che ringraziamo per essere stato con noi tutto il giorno e che chiediamo entrino no non scherziamo chiediamo entrino nella prossima legge di stabilità perché abbiate pazienza sui principi siamo tutti d'accordo però Livia che come me ha fatto l'esperienza di essere il ministro povero del Consiglio dei Ministri sa che cosa significa poi arrivare e vedersi sforbiciare che cosa si sforbiciano subito le iscrizioni in bilancio per il sociale le iscrizioni in bilancio per la sanità le iscrizioni in bilancio per la scuola e allora non basta è importantissimo quello che le nostre madri costituenti hanno messo nella Costituzione ma non basta rimane come un bel quadro vi ricordate anche tutta la questione che si è fatta sulle norme costituzionali precettive o programmatiche si tendeva a spostarle verso un carattere programmatico perché facevano da quadro e non incidevano mai nella realtà invece prima si è domandato qual è la caratteristica e se c'è una caratteristica delle donne in politica e si è anche detto e purtroppo è anche vero che tendono a omologarsi verso gli uomini soprattutto se potenti attenzione noi non ce l'abbiamo che i nostri colleghi noi li ringraziamo e vogliamo lavorare con noi però non ci omologhiamo con nessuno no questo credo che vada detto con molta chiarezza e vada detto anche amiche con molta chiarezza una cosa 70 anni poi tornerò un momentino sui 70 anni sono un tempo lungo sono un tempo importante e noi dobbiamo oggi non ricordarli nel senso di commemorarli perché per tutto il rispetto per i rottamandi e per i rottamati come me le commemorazioni non servono noi dobbiamo essere qui per impegnarci per impegnarci a far qualcosa e perché dalle madri costituenti ci venga un linguaggio e un insegnamento di semplicità e di coraggio e perché io rivendico per le donne questo diciamo diritto di proposta perché credo che se una caratteristica c'è stata nella politica al femminile delle istituzioni dieci anni alla Camera e dieci anni al Senato mi hanno insegnato qualche cosa e che le donne non solo sono state sempre più sensibili al sociale e alla vita concreta dei cittadini ma non sono mai state solo donne di palazzo ma sono state le più aperte verso le realtà e quindi le più capaci di tirare a sé quei problemi vivi che sono i problemi che poi interessano la nostra gente premesso questo e scusatemi per la promessa lunga io sono praticamente d'accordo anch'io su moltissime delle cose dette vorrei provare un momentino mi sembra che un angolo sul quale non ci siamo fermati abbastanza è quello che riguarda le condizioni nelle quali queste coraggiose dialoganti donne e madri costituenti hanno combattuto e allora vorrei fare due o tre notazioni 1848 si promulga lo statuto albertino un fatto politico grande rispetto all'unità d'italia un tentativo di democratizzazione del governo del piemonte ma c'era lì dentro qualcosa che riguardava anche noi c'era l'articolo 24 che diceva con molta chiarezza tutti i regnicoli sono uguali di fronte alla legge quindi tutti hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri quindi siccome fra i diritti c'era il diritto di voto era ovvio che questo riguardava anche il diritto di voto alle donne pacifico peccato però amiche mie che due o tre mesi dopo è stata approvata la legge comunale e provinciale e guardate un po' fra i cittadini ai quali il diritto di voto non è stato partecipato allora non era un diritto del cittadino ma una concessione del del sovrano ci sono i detenuti falliti i reclusi in ispiazione di pena e le donne quindi malgrado la norma costituzionale le donne erano equiparate ai detenuti ai falliti agli interdetti ora questo era il tipo di ambiente nel quale hanno dovuto lavorare e questo questo lavoro è andato avanti per almeno un secolo e appunto per esempio nel nel subito dopo appunto subito dopo questa uscita del 1848 c'è stato un periodo sul quale mi rivolgo alla vice presidente della camera varrebbe la pena di far lavorare ancora qualche giovane ricercatrice sugli atti parlamentari che sono e sui le proposte i disegni di legge le petizioni che sono state presentate nel periodo che va dal 48 al 60 dove il problema della donna non emergeva con forza perché il problema che emergeva con forza era logico era quello dell'unità d'Italia quando invece si è cominciato a riunirsi il Parlamento a Roma allora c'è una produzione dalla proposta di legge di Morelli eccetera eccetera una produzione che ci dà le relazioni sono interessantissime la misura della fatica i problemi che dovevano affrontare e appunto c'è un episodio che a me fa piacere ricordare siccome la scusa principale per negare il voto alle donne era sempre quella della incapacità intellettuale siete ignoranti era quella dell'emotività per amor di Dio fare il magistrato troppo emotivo questo per dire la verità mi dispiace citare male una persona alla quale voglio molto bene ho voluto bene ma Leone Giovanni Leone se l'è portato avanti fino alla Costituzione no? e appunto siete ignoranti e allora che successe? nel 1906 un gruppo di donne guidate da Maria Montessori la prima donna che si era laureata in medicina in Italia con Teresa Labriola la prima donna che si è laureata in giurisprudenza in Italia e altre donne di quel calibro presentarono una petizione alla Camera per chiedere il voto quando fu discussa si sentirono rispondere che il governo era molto meravigliato di questa richiesta perché la norma che le escludeva dal voto era una norma per le donne protettiva delle donne perché evitava le donne il disdoro a una gentildonna alla lettera il disdoro di entrare in un seggio elettorale no? pensate quello che era anche il concetto dei luoghi dove si svolgeva la vita politica 40 anni dopo qualcuna di voi che c'è un po' tempo si vada a prendere l'atto parlamentare del 3 maggio 1947 quella stessa Montessori che si era sentita dire che non poteva entrare in un seggio dal palco reale entra in Parlamento i costituenti perché siamo in periodo di costituente si alzano in piedi l'applaudano e dal banco dei deputati una donna per caso mia madre la ringrazia appunto a nome della costituente e a nome dell'Italia di quello che ha fatto perché perché all'inizio dopo un iniziale tentativo di collaborazione con il fascismo è venuto fuori tutta la discrasia la proprio la incompatibilità fra la Montessori che educava alla libertà alla pace al rispetto della personalità di ogni ragazzo e il fascismo massificante e allora la Montessori era stata costretta ad andare in esilio prima in India e poi in Olanda dove è sepolta quando dopo la guerra questi paesi chiesero a Stoccolma il premio Nobel per Maria Montessori il comitato di Stoccolma rispose che la Montessori aveva tutti i requisiti però non si non si poteva dare il Nobel a un paese vinto cioè la Montessori non ebbe il Nobel perché era italiana e l'Assemblea Costituente con questo omaggio ha voluto ripararlo perché vi racconto questo perché le situazioni cambiano devono cambiare possono cambiare e siamo in un momento nel quale fra la riforma costituzionale fra appunto l'incertezza dell'Europa che va sempre più diventando un'Europa priva di anima fra il distacco fra appunto la politica e la gente deve cambiare questa situazione e senza avere nessuna boria né nessuna diciamo speranza esagerata io credo che le donne siano un elemento essenziale per questo cambiamento e attenzione sono contenta che piano piano anche a livello di presidenza del Consiglio si recuperi il discorso delle società intermedie sono contenta che oggi si sia parlato tanto di associazionismo con la nostra amica ricordavamo l'associazione donne giuriste sono tanti gli elementi perché bene o male se vogliamo veramente che ci sia una democrazia viva deve esserci una partecipazione e la partecipazione non perché io non so usare il computer per mia colpa ma non può essere soltanto una cosa che viaggia sul web ma deve essere una cosa viva sentita vissuta discussa portata avanti con l'umiltà con la quale appunto le nostre costituenti hanno lavorato e con la capacità di ascoltarsi che loro hanno avuto vi ringrazio grazie a Rosa Russo Ierbolina e alla sua immediata richiesta politica indirizzata al capogruppo quindi è andata subito diciamo allo scopo perché è bellissimo tutto poi bisogna anche tradurre in fondi a disposizione quindi in politiche diciamo sostenute e lascio la parola subito a Marina Sereni che deve poi andare via vicepresidente della Camera anche lei ruolo istituzionale quindi osservatorio anch'io sarò come per Maria Fedeli sono contenta di esserci ringrazio il gruppo ringrazio Roberta Agostini ringrazio Olivia Turco e la fondazione Nilde Jotti per questa occasione parto dal titolo della mostra che ha fatto la Camera sul settantesimo anniversario del voto alle donne per dire noi abbiamo scelto questo titolo 1946 l'anno della svolta intanto chi non l'ha vista approfittatene perché è una mostra bellissima una mostra in cui ci sono dei materiali straordinari che abbiamo sentito un po' raccontare da alcune testimoni privilegiati di quella vicenda di quella storia ma che sono veramente offerti in una maniera straordinariamente efficace alla opinione pubblica e io credo che essendo qui vale la pena andarsela a vedere perché prendo questo anno della svolta perché la mostra rende evidente che c'è un lungo cammino prima di quell'anno della svolta ma soprattutto dopo l'anno della svolta cioè dopo il voto delle donne inizia un lungo cammino ci sono stati e qui è stato ricordato ci sono stati tante tappe di quel cammino e io sono completamente d'accordo con Marisa che è davvero una grande quando dice c'è ancora tanto da fare il cammino non è per niente finito il cammino è lunghissimo abbiamo avuto delle tappe ma ce ne dobbiamo porre molte altre di queste tappe sono diverse perché nessun traguardo è mai raggiunto per sempre perché non c'è un diritto che abbiamo acquisito una volta per tutte ma sono diverse anche perché le sfide che abbiamo di fronte cambiano continuamente e cambiano più rapidamente di quanto noi potessimo immaginare per esempio la discussione su i pericoli e le opportunità del web ci pone di fronte a un tema anche rispetto al rispetto del corpo femminile dell'identità femminile eccetera enormemente inedito per noi non solo perché non sappiamo usare come dice Rosetta il computer come i ragazzi e le ragazze di oggi ma anche perché quei temi dal punto di vista culturale giuridico normativo eccetera sono temi straordinariamente nuovi e la politica fa un po' fatica a stare dietro a quella velocità perché le innovazioni tecnologiche sono indubbiamente più veloci delle innovazioni politiche poi se noi ci proviamo un po' non è male allora conoscere lo diceva Valeria Fedeli lo riprendo conoscere la storia delle tappe che abbiamo ereditato dalle nostre madri è importante perché ci consente non solo di essere riconoscenti nei confronti di queste madri molto riconoscenti ma ci consente anche di capire che cosa possiamo e dobbiamo fare per raggiungere nuovi traguardi e qui sono stati citati i terreni il lavoro la conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di cura la rimessa in discussione dei ruoli nella famiglia e nella società la lotta contro la violenza io non voglio entrare nel merito dico però che su tutti questi capitoli noi siamo in grado di fare un bilancio di quello che abbiamo ottenuto sul piano delle norme e sul piano delle politiche e siamo in grado di dire che cosa ancora dobbiamo ottenere Livia Turco e la fondazione Nilde Jotti hanno fatto un lavoro preziosissimo con il libro che tutte abbiamo ormai diciamo presentato nelle nostre città smerciato io l'ho smerciato anche alle deputate due natali fa mi pare l'ho regalato a tutte le deputate perché pensavo che fosse giusto nella legislatura più femminile della storia repubblicana cominciare dicendo guardate siamo arrivati qua siamo il 31% delle deputate ma ci siamo arrivate grazie al fatto che sono state fatte un sacco di cose prima di arrivare a questo traguardo però non basta conoscere quello che è stato fatto e non basta nemmeno conoscere le protagoniste questa sala che avete visto è molto bella secondo me è un'altra iniziativa di cui credo dobbiamo ringraziare la presidenza della camera perché ci ricorda che ci sono state le prime sindache ci sono state insieme alle 21 madri costituenti ci sono state alcune sindache c'è stata la prima ministra della repubblica c'è stata la prima donna presidente della camera c'è stata la prima donna presidente di una regione quindi abbiamo alle spalle una storia che è fatta di nomi cognomi rigore e grande spessore culturale oggi noi siamo molte di più molto meno autorevoli forse di quelle donne facciamo più fatica ma anche in questa legislatura si sono fatte delle cose scusate io voglio essere qui ci sono poche colleghe giovani però le colleghe giovani di questa legislatura sono state protagoniste di tante cose importanti e io penso che noi dobbiamo aiutarle ad essere orgogliose di questi risultati abbiamo fatto delle leggi sul lavoro nel Jobs Act di cui parliamo sempre per altre cose c'è una intera parte che riguarda il lavoro femminile è stata ricordata la legge sulle dimissioni in bianco potremmo ricordare la convenzione di Istanbul la legge sul femminicidio potremmo ricordare che questa è anche la legislatura in cui abbiamo fatto la legge sulle unioni civili e io penso che questa è anche il frutto di un Parlamento più giovane e più femminilizzato più aperto ai diritti più aperto alle innovazioni della società italiana non potremmo quindi lo dico per essere diciamo per farci carico di che cosa noi che siamo più grandi che siamo una generazione che è consapevole di quello che ci hanno lasciato le donne che sono state prima di noi facciamo anche un po' uno sforzo io me lo sento come dovere di riconoscere il valore di una generazione di donne che è arrivata in politica in maniera completamente diversa da me in maniera completamente diciamo e anche un modo di fare politica completamente diversa da me che io però penso a cui io penso noi dobbiamo dare un'apertura di credito anche perché ci sono stati dei risultati ci sono stati dei risultati che sono innegabili in questa legislatura lo dico riprendendo la suggestione di Rosa Russo e Iervolino la Presidente della Camera ci ha fatto una proposta che è quella di costituire l'intergruppo delle donne 80 circa 80 deputate di tutti i gruppi parlamentari naturalmente non vi sfuggerà che il 75 80% di quelle 80 sono del PD hanno aderito a questa proposta abbiamo fatto questo intergruppo delle donne e nell'ultima legge di stabilità cioè quella passata queste donne hanno presentato un pacchetto di emendamenti un po' per fortuna un po' perché siamo state tenaci eccetera molti di quegli emendamenti poi qui c'è Sesa che rappresenta il governo sono stati raccolti e credo che questa sia un'esperienza che ha più luci che ombre però c'è anche un'ombra e l'ombra è che queste ragazze più giovani e noi donne che facciamo politica da più tempo abbiamo perso l'abitudine a quel dialogo a quel lavoro trasversale e autonomo dai partiti a cui faceva riferimento Livia è tanto difficile lavorare in maniera trasversale oggi in Parlamento tanto difficile e poi siccome io non mi tolgo mai cioè i sassolini li tolgo sempre quanto possono essere distruttive le donne con le donne non c'è dato altro modo di ecco ok siccome bisogna che ce lo diciamo no? Allora per esempio abbiamo avuto un problema su un emendamento il codice rossa ci siamo quasi ammazzate dentro il Parlamento ed era tutto un problema interno all'intergruppo interno sostanzialmente alla stessa area politica quindi il povero il povero Rosato lo sa che poi doveva tenersi e fare l'arbitro della vicenda quindi io penso che noi dobbiamo valorizzare quello che è stato fatto valorizzare quello che stiamo facendo stiamo facendo io sapete quello che penso sulle riforme istituzionali della politica penso che se vogliamo ridare valore come diceva Livia alla partecipazione politica e alla rappresentanza democratica noi dobbiamo porci il problema di far funzionare la democrazia perché se la democrazia non funziona il valore della rappresentanza democratica è zero è zero quindi penso che abbiamo interesse oltre che per le cose che diceva che diceva Valeria di portare a termine un processo riformatore ultima cosa la dico sulla visibilità di questo lavoro delle donne quello del passato e quello di oggi c'è un lavoro di ricerca che viene fatto costantemente ormai da tanti anni sui mezzi di informazione che mi è capitato di studiare proprio per un'iniziativa che abbiamo fatto qui alla Camera che si chiama monitoring global media monitoring project che va avanti dal 1995 nel 2015 cioè l'anno scorso la prima domanda a cui risponde questo progetto è chi fa la notizia nel senso di chi produce la notizia e di chi è il soggetto della notizia nel 2015 in Italia il 79% della notizia la fanno gli uomini se poi andiamo e siamo molto migliorate perché dieci anni prima era invece dunque le donne erano al 7% quindi era il 93% quindi adesso siamo passati dal 7% al 21% siamo migliorate un sacco un po' lenti però siamo migliorate ma molto di meno di quanto è migliorata la rappresentanza per esempio perché siamo arrivati al 31% della rappresentanza siamo al 21% della notizia poi mi divertivo a pensare quando fanno le interviste io non so se siamo omologate o no ma quando si fa un'intervista a una donna che ricopre un ruolo pubblico si fa la domanda sul privato avete mai visto un giornalista che fa una domanda sul privato a un uomo che riveste un incarico pubblico no quando si intervista una donna che ha un ruolo magari la si cerca in un contesto privato in una location privata invece l'uomo sempre in ufficio con la scrivania tutto perfetto allora approfitto perché c'è Alessandra che è una giornalista sportiva non sportiva nel senso che si occupa dello sport ma sportiva come atteggiamento ecco io penso che noi dobbiamo mettere in luce ciò che si è fatto nel passato ciò che stiamo facendo dobbiamo trasmettere tutto questo alle generazioni più giovani il 14 Livia non l'ha detto perché si era scordato e poi perché era preso da un discorso di più alto profilo facciamo qui alla camera presentiamo un video che riassume diciamo così che tra l'altro è stato fatto dalla provincia di Perugia diciamo è stato finanziato e realizzato con l'aiuto della provincia di Perugia delle pari opportunità facciamo questo video presentiamo questo video che riassume il libro e che lo aggiorna e che lo aggiorna si si ho parlato con Lorena per la resi mi va di venire qui lo aggiorna cioè ci mette anche quello che abbiamo fatto in questa legislatura quindi ci mette l'ultimo su tuo suggerimento brava questa cosa è uno strumento utilissimo per le scuole quindi io penso una volta che questo documento ce l'abbiamo lo possiamo d'accordo con la ministra Giannini portare nelle scuole può essere un modo semplice un po' più leggero di quanto non possa essere il libro di avviare una riflessione insieme alle scuole adesso il capogruppo se n'è andato però lo dico lo stesso questo lavoro se non lo fa il PD non lo fa nessun altro se non lo fa il PD come PD e se non lo fa il PD come gruppo parlamentare cioè se non siamo noi a riprendere in mano il tema della qualità della politica della qualità della partecipazione e anche del ruolo dei generi di uomini e donne della complementarietà dei due generi nella vicenda politica italiana io penso che non ci siano altri soggetti in grado di farlo grazie devo testimoniare che l'uscita del capogruppo non è strategica ma era per impegni e anche quella della Presidente Fedeli che deve presiedere l'aula adesso al Senato quindi vi saluta ma non poteva rimanere ecco quindi non c'è stata adesso credo che anche Marina Sereni stia per decollare colgo prima di dare la parola a Bertina Soliani l'occasione per dire che sono perfettamente non solo una giornalista sportiva è vero e sono anche perfettamente d'accordo su quello che ha detto Marina Sereni cioè il ruolo dell'informazione in quello che ci siamo detti oggi è ovvio è strategico e purtroppo molto spesso l'informazione non contribuisce ci ha fatto a svelare questo mondo che ci stiamo raccontando e me ne dispiace cioè colgo questa cosa e quindi è vero bisogna andare nelle scuole ma bisogna anche forse fare delle sessioni su informazione qualità dell'informazione e vita vita reale siamo anche noi non sempre in sintonia con il paese dunque Albertina Sogliani Presidente dell'Istituto Cervi e poi conclude Sesamici voi sapete come è stato detto all'inizio da Roberto Agostini che la Ministra Boschi è in Calabria per questo fatto di cronaca terribile e quindi sarà Sesamici a rappresentare il governo Albertina Sogliani e che vi dico dall'Istituto Cervi dalla Birmania di An San Suu Kyi da 70 anni di vita uno in più miei da quando ero una bambina che andava a piedi nudi nei campi stavo sulla riva dei fossi sognavo facevo scrivevo poesie e dall'altra parte nella riva del fosso mia mamma in mezzo al grano turco mi parlava e insomma secondo me mi comunicava un grande senso della serietà della vita ma io la leggevo così siccome per lei lei la vita era stata dura ed era una cosa molto seria investiva tutto su di me voleva dire allora che il mondo e la storia erano delle cose molto importanti 70 anni di Repubblica dovrebbero farci riflettere come paese su quello che siamo su quello che siamo stati ma questo è un livello della riflessione che richiede un po' più di tempo non la concentrazione sull'obiettivo immediato magari sull'emendamento ci vuole anche quello ma nello stesso tempo nello stesso giorno nella stessa relazione con gli altri in Parlamento e con il paese bisognerebbe anche dirci quali sono quelli concetti fondamentali che continuano a vivere che stanno scritti in Costituzione ma che sono la ragione per la quale noi facciamo politica noi stiamo insieme come paese noi guardiamo avanti io penso che non si possono raccogliere nello sguardo complessivo e collettivo da soli si realizza poco nella storia di questi 70 anni se non si coglie al fondo ciò che permane nel corso della storia e ciò che quindi vale oggi per il futuro in questo momento sento mettendo assieme queste mie esperienze che è importante la connessione tra il passato il presente e il futuro io credo che anche nella realtà frenetica di oggi nella vita politica molto frenetica niente più reale di un buon pensiero teorico che faccia capire la direzione verso la quale andiamo questa connessione tra il presente e il passato la si capisce molto bene quando si vive in un luogo di memoria perché la memoria vive se nel presente ti dà lo stimolo per capire come ti devi muovere in un certo senso è il presente che va a cercare il passato perché sette fratelli si sono impegnati per cambiare il mondo perché sono stati uccisi ma allora il cambiamento del mondo la politica la democrazia costano sì costano ricordo un pensiero di Aldo Moro nei primissimi anni del dopoguerra mi pare di ricordare in un discorso studenti della FUCI sul Trentino noi che siamo rimasti abbiamo la responsabilità di continuare ciò che è nato da un grande sacrificio la politica smarrisce l'idea che la democrazia la libertà il cambiamento hanno dei prezzi la memoria ci dice che sono stati pagati prezzi altissimi se la politica se i politici non sono in grado di pagare dei prezzi non è autentica la politica che stanno facendo e quando si parla del distacco tra la società e le istituzioni e la politica probabilmente questo distacco deriva anche dal fatto che il popolo paga dei prezzi per le condizioni in cui si vive e meno i politici allora la riflessione su 70 anni sullo stato del paese e su dove andiamo è una riflessione molto importante in questo senso il richiamo ad andare nelle scuole bisogna assolutamente molto importante già c'è stato alla fine dell'approvazione della Costituzione un ordine del giorno Moro Terracini e qualcun altro che invitava a insegnare la Costituzione nelle scuole ma non si può insegnare la Costituzione nelle scuole se non c'è una testimonianza viva e autentica c'è un secondo elemento che credo vada assolutamente recuperato il mondo allora era uno il mondo oggi è uno solo ed era percorso da fenomeni globali e le donne sono entrate nella storia perché hanno assunto le sfide del mondo di allora ecco questa visione globale io credo che sia molto importante perché significa che alla fine siamo alle prese con valori universali e non importa da quale luogo di formazione di provenienza politica l'importante è scoprire le ragioni universali della convivenza c'è questo aspetto che mi ha sempre colpito la storia della famiglia Cervi come di altre famiglie e come di altri nella vita della resistenza è la storia di vite concrete venite a casa Cervi e trovate il trattore con il quale hanno cominciato a fare la rivoluzione nelle campagne quando ancora non c'era se penso cosa significa rivoltare la terra hai già un'idea del cambiamento coprire le buche gli avvallamenti significa già volere cambiare un cambiamento che durava 8-9 ore al giorno in campagna e poi la sera continuava con la lettura dei libri l'istruzione costantemente legata alla vita delle persone in quella casa prima dei ragazzi una donna leggeva la sera ed era la madre Genoef insegnato lei ai ragazzi a leggere la sera leggeva i libri che erano a disposizione leggeva la Bibbia leggeva la madre di Gorky vedete questa visione globale e c'è questo legame così stretto della storia con la vita della politica con la vita e con la vita che può mettersi a disposizione per cambiare la storia e per cambiare la politica la storia che in quel periodo in un certo senso contendeva la vita ce la portava via o la liberava attraverso l'azione della liberazione ecco io penso che noi non possiamo non andare a fondo di quello che passava effettivamente nell'animo nella mente degli uomini e delle donne che hanno compiuto queste grandi azioni quando penso al pensiero che aveva un ruolo fondamentale non solo le cose da fare e penso che molto abbiano pensato per la verità spero che molto si pensi anche adesso nei luoghi della costituente nelle aule parlamentari ma la discussione e il pensiero erano fondamentali ricordo due costituenti Angela Gottelli e Laura Bianchini le uniche due donne che stavano insieme degli uomini Dossetti Fanfani e altri in via della Chiesa Nuova alla comunità del Porcellino quindi non solo lavoravano alla Camera ma con gli uomini poi continuavano il lavoro di discussione di giorno e di notte questo legame profondo tra la politica e la vita mi pare che oggi debba essere tutto recuperato e quando penso al lavoro che può fare un luogo di memoria nella vita di oggi perché la memoria vive se oggi interpreta il presente vi voglio dire che noi a Casa Cervi abbiamo cominciato a lavorare con le generazioni dei ragazzi di seconda generazione nella scuola figli di immigrati perché la loro storia e la loro cultura incontri la nostra memoria e insieme si costruisca la dimensione del futuro della cittadinanza futura in questo senso voglio dire che tutto è stato più rigoroso allora perché si è pagato di più e il recupero dell'idea che la democrazia e la libertà si pagano è qualcosa che ha a che fare anche con le difficoltà di oggi io non credo che la politica riuscirà ad essere convincente se non riesce a prendere atto a identificarsi con la sofferenza della vita io credo che le donne allora venissero da una lunga storia non solo personale delle 21 ma di intere generazioni di donne per tutto il novecento una settimana fa ho incontrato ancora una volta in Birmania Napidò nella capitale politica molto surreale di quel paese uscito adesso dalla dittatura militare Aung San Suu Kyi questa donna che vive la sua vita ha dato la sua vita per la democrazia la identificazione profonda della propria vita con i prezzi che questo comporta per la vita del popolo adesso sta vivendo la democrazia che nasce nel suo paese per lunghi anni l'ha pensata l'ha curata agli arresti domiciliari ha pagato dei prezzi nei giorni scorsi è stata e passata a Londra in questi giorni sarà all'ONU per il discorso all'Assemblea delle Nazioni Unite il primo discorso del suo paese e quindi di un paese che può parlare oggi di libertà e di pace è passata da Londra dove ha incontrato un'altra donna la nuova Premier e ha incontrato un figlio Kim con i suoi nipoti dopo una lontananza che la storia ha loro imposto mi domando ragazzi altrove le cose costano molto ma sono autentiche siamo arrivati con una delegazione parlamentare guidata da P.F. Ferdinando Casini nel pieno della conferenza per la pace e la riconciliazione là si combatte là non c'è unità ancora la prima cosa che intende fare è questo mettere attorno a un tavolo tutti coloro che stanno combattendo per dire che c'è un'altra prospettiva della storia e a loro di fronte a 1800 persone con Ban Ki-moon presente lei ha detto questa cosa non guardate al futuro non guardate al passato guardate al futuro lei che del passato della Birmania conosce tutta la sofferenza questo sguardo sul futuro che non è neanche nelle cose che deve fare che ne deve fare un'infinità e sono enormi ma è lo sguardo sui prossimi trent'anni della Birmania c'è questa visione globale che si è tradotta in una scelta che lei ha compiuto in quegli stessi giorni di fronte al problema drammatico sapete del conflitto con la minoranza musulmana detta anche Rohingya quando ha messo in piedi una commissione perché affronta il problema e l'ha affidata a Kofi Annan si dirà ma ha preso una persona che se ne intende io credo che lì ci stia qualcosa di più profondo c'è un esempio per il mondo nel senso che i conflitti non sono locali i conflitti sono globali e io mi immagino che di fronte ai conflitti del mondo quello che dovrebbe fare l'ONU che non riesce a fare ma di fronte ai conflitti nel mondo bisogna andare a trovare quelle venti trenta persone donne e uomini del mondo autorevoli capaci capaci cioè di uscire anche dai limiti delle nostre difficoltà che non riusciamo a vedere oltre ma che sono in grado di poter affrontare in ciascuna situazione i problemi con quelle due tre idee fondamentali che sono il rispetto dell'uno per l'altro che è la convivenza del noi e non delle contrapposizioni che è il dialogo c'è un ultimo elemento che voglio dirvi in piena laicità non so come dire Aung San Suu Kyi è una persona che medita di esperienza buddista ma non solo insomma è una persona che dice la politica è rivoluzione spirituale l'ha detto a Bologna quando ho fatto l'Alexio Magistralis per il conferimento della laurea onoris causa questa forza dello spirito della spiritualità poi intendiamolo come vogliamo non solo in qualsiasi forma religiosa ma anche non religiosa semplicemente la dimensione di qualche cosa che non è legato né all'azione né alla materia né al merito ma ha a che fare con la concentrazione su quello che tu devi essere sul rispetto che devi per gli altri e su quei valori fondamentali che stanno scritti per esempio dentro la nostra Costituzione difficile dire che ci sia una spiritualità della nostra Costituzione ma io penso di sì ma non si può dire perché se no pensano che la identifichi con un pezzo o quell'altro è per dire che un paese se vuole vivere se vuole entrare nel futuro un popolo se vuole risollevarsi dalle sue difficoltà ha bisogno di fermarsi un momento e di attingere a qualcosa di molto più profondo secondo me le donne che abbiamo conosciuto nella nostra storia repubblicana questa attitudine questa capacità ce l'avevano e avevano la capacità di identificarsi totalmente l'avete detto con la vita della gente in fondo il grande cambiamento avvenuto in Birmania è venuto l'8 novembre dell'anno scorso quando ci sono state le elezioni abbastanza regolari con gli osservatori internazionali e un popolo intero usciva da decenni di violenza e di oppressione semplicemente uscendo di casa andando per strada in fila sorridenti con lunghissime file sono andati a fare il cambiamento della loro storia vi devo dire che a me è venuto in mente che la stessa cosa è avvenuta il 2 giugno del 46 quando le donne italiane sono andate in fila presto la mattina per tempo magari preoccupati che la cosa non durasse per tutta la giornata per andare a cambiare la storia ecco io penso che la vita del presente debba sentire la forza delle radici che hanno fatto il cambiamento nel passato che tuttora continua e deve anche sentire il grande richiamo verso il futuro che le donne siano su questa lunghezza d'onda io lo penso da da sempre bisogna che si veda bisogna che si senta e poi c'è questo questo aspetto del sentirsi parte di un mondo globale per cui quello che vivi qui è la stessa cosa ed è questa la ragione alla fine perché riesco a derogare con Ansan Suu Kyi pur non sapendo l'inglese che ve la dice tutta ma c'è anche la consapevolezza profonda che ogni passaggio ogni cambiamento nella vita dei popoli soprattutto da parte delle persone che sono coinvolte e che hanno il compito di guidarli è un passaggio che non ti risparmia costi e sacrifici chi ha sempre capito questa cosa ha avuto la capacità di dare e di rendere un grande servizio al popolo e oggi possiamo dire all'intera umanità grazie grazie Albertina Sogliani il concetto di rivoluzione spirituale è molto bello soprattutto contrapposto con con lo stato attuale delle cose quindi a quella politica della rabbia di cui si diceva all'inizio quindi è una bella sfida a questo punto è molto bello avere un esponente del governo Sesamici perché poi deve come dire ha il compito di tradurre un po' queste riflessioni in qualcosa che può essere anche di concreta operatività se possibile tanto anch'io ringrazio le democratiche sinistra le democratiche il gruppo il presidente Rosato anche se è andato via e tutte tutte le persone soprattutto donne autorevoli di grande spessore l'ultimo intervento ha anche testimoniato come dire di una profondità che lega insieme l'idea della politica della spiritualità ma anche rispetto come dire di tradizioni diverse a me dispiace molto ma lo dico perché questo era anche il messaggio che il ministro Maria Elena Boschi voleva portare a questo incontro del fatto che noi non abbiamo potuto non ascolterete direttamente il ministro la ministra la quale poteva assumere in questo momento due funzioni quella di essere la ministra delle riforme ma anche il fatto di aver assunto pochi mesi fa anche l'incarico di ministra delle pari opportunità che è un punto importante e poi dirò perché perché credo che le cose che ci siamo venuti dicendo in questa sede testimoniano di come il passaggio della presenza delle donne nelle istituzioni è un passaggio che ancora va approfondito io vorrei provare a fare una lettura un po' diversa dalle cose che abbiamo sentito che ovviamente come dire non è in contraddizione ma è semplicemente provare a dare il senso di una idea che la Repubblica e le madri delle costituenti hanno portato qualche elemento in più e quindi non ripetiamo le stesse tutte le tappe e lo vorrei fare parlando come dire di un profilo giuridico sul concetto di democrazia lo ricordava Roberto Agostini nella sua introduzione noi abbiamo assistito ad un decreto luogoderenziale che fu stabilito che le donne potevano dare un voto ma non potevano essere elette poi ci fu come dire la correzione e questo nasce come un elemento discriminante quasi un vulnus della democrazia perché in quel momento non si riconosceva la pienezza della cittadinanza di uomini e di donne e già nel giro di poco come dire questo elemento testimonia del fatto che il cammino delle donne soprattutto delle madri costituenti è stato quello di poter ricongiungere questo dato della democrazia e lo voglio fare ricordando è molto citato è stata citata anche da Livia la giovane Teresa Mattei lo faccio però da questo punto di vista perché la continuità quello che Livia diceva il passaggio non solo di testimoni di memoria di forza ma anche la fondatezza del proprio ruolo come dire nella dimensione della politica come servizio la giovane Teresa Mattei quando interviene per motivare il voto favorevole all'articolo 3 con la sua modifica al secondo comma inizia l'intervento con queste parole mi scuseranno i colleghi dell'assemblea se rispetto al decano e il decano si chiamava Emanuele Orlando turista raffinato eccetera parlerò di Mino per due motivi uno per la mia giovanità e non ho molto come dire di ricordi sulla mia esperienza ma soprattutto perché voglio andare all'essenziale ecco il tratto che è una parola che piace molto a Livia che in queste due affermazioni c'è la concezione del tempo l'uso del tempo nelle istituzioni non può essere semplicemente la narrazione e la messa in essere visibile della propria competenza perché quello allontana l'obiettivo della concretezza ecco quelle parole di Teresa Mattei ci dicono quanta strada noi abbiamo fatto non solo nei costituenti dopo quegli articoli le leggi che sono venute dopo e la storia delle leggi delle donne Livia ne ha ricostruito questo libro di Melania per arrivare ai giorni nostri dove quell'esempio della concretezza e della capacità di relazione oggi ci interroga profondamente ecco io credo che noi dobbiamo partire da questo che non è solo il bilancio e il tenere insieme una memoria e il grazie va dato dentro un filone di ragionamento concreto perché la trasversalità che in quegli anni si è dimostrata non era una trasversalità neutra era una trasversalità che cercava di costruire una visione un'idea e un progetto del mondo e i loro pensieri non erano l'immediatezza l'immediatezza era la risoluzione quindi l'uso della politica come risoluzione dei propri problemi e dei cambiamenti ma insieme si provava a costruire il futuro e se io penso se noi dobbiamo avere come dire un legame con le nostre madri è la consegna di questo futuro che è il futuro dentro il quale tu ridisegni l'idea di un progetto di una società che cambia che provi a cambiare gli stili e se oggi come diceva la Presidente Sereni noi siamo la legislatura più femminile della storia repubblicana non è solo grazie a chi quel cammino l'ha segnato profondamente nella battaglia dei diritti della rappresentanza politica ma chi ha legato la rappresentanza politica all'affermazione dei diritti sociali la Costituzione è straordinaria per questo perché non separa mai i diritti della rappresentanza come dato giuridico dai diritti dell'affermazione piena dell'aspetto sociale economico culturale ci sono questi termini nella Costituzione che si ripetono quasi a significare esattamente la voglia come dire che la politica deve essere questa cosa il cambiamento delle condizioni materiali delle persone e a noi ci consegnano in questo senso tutta una serie di problemi che in maniera mirabile credo l'intervento della onorevole Marisa Rodono ci ha riproposto non basta essere arrivate a punti importanti noi abbiamo fatto tanti cambiamenti nella questione della rappresentanza ormai siamo come dire in quasi tutti i livelli abbiamo posto delle condizioni di non discriminazione di capacità di stare nelle istituzioni ma io vorrei evitare ed è questo il monito come dire che ci sentiamo di cogliere e sappiamo che questa è la difficoltà che quel risultato non venga vissuto come una cosa ormai acquisita perché la democrazia si invera e si alimenta ed ha bisogno di un alimento se la politica fa fare passi avanti a quel dato della rappresentanza se quella rappresentanza è l'elemento con la quale nessuno finita una legislatura può pensare che si può tornare indietro se tu non costruisci nella cultura politica dei movimenti l'idea che qualcuno si possa immaginare e sognare un'istituzione in cui non ci sia la presenza delle donne lo dico perché questo non è acquisito non è acquisito nella cultura nei livelli di regressione che noi abbiamo sotto gli occhi e quindi noi abbiamo il compito di implementare questo dato e lo possiamo fare solo attraverso le politiche pubbliche che rimettono al centro la voglia delle donne di un protagonismo femminile che non è la visibilità il protagonismo femminile è la costruzione e la capacità di costruire alleanze politiche e sociali perché quegli elementi diventano forza ed ha ragione la Marina Seregni quando dice noi facciamo un bilancio proviamo a fare anche un bilancio delle cose straordinarie che ci vengono dalle madri di costituenti i passaggi importanti che sono stati anche lì graduati nel tempo perché come dire c'era la lungimilanza di aver visto l'accesso a tutte le carriere e poi aspettare il 63 per entrare in magistratura ma poi la velocità che ci sia stato in un periodo in cui si sono sommati tutta una serie di leggi in maniera molto veloce poi di nuovo come dire l'elemento di piatto il reflusso di questo protagonismo femminile o anche l'idea e la sensazione che a volte questo protagonismo potesse fare a meno della politica e delle politiche pubbliche questo è avvenuto quando si è iniziato a ragionare come dire che esiste solo il merito che il merito e le competenze da sole fanno una politica quando noi sappiamo che se tu vuoi avanzare dei cambiamenti il merito e le competenze devono essere le condizioni che si offrono a tutte e quindi devi ritornare a rimuovere quegli ostacoli che di fatto impediscono proprio questi elementi come dire di eguaglianza sostanziale lo facciamo quindi dentro un bilancio in cui alcune cose sono state fatte alcune le abbiamo recepite già nel corso di questa legislatura ed è evidente che però tutte queste questioni comprese le dimissioni in bianco il tentativo di dire che c'è bisogno di rimettere a fuoco il tema della parità salariale perché la parità salariale a parità di lavoro essere sottopagate ripropone un tema di ineguaglianza drammatica in questo paese e dall'altra ti dice che tu come Stato hai oggi l'obbligo non solo di vigilare intorno a questo ma di costruire le condizioni per cui la conciliazione e mi rivolgo sempre a Livia perché Livia fu il ministro allora che con la legge 53 posa al centro il tema della conciliazione perché il dato della maternità e anche della condizione della detenarità passa esattamente attraverso come dire l'investimento dello Stato dove noi abbiamo certo fatto i bonus per le famiglie come dire che sono numerose abbiamo dato in stabilità tutta una serie di incentivi anche di detrazione fiscali per aiutare in questa condizione complessa di difficoltà economica del paese una serie di vantaggi ma ci rendiamo perfettamente conto e quindi sarà la sfida della nuova legge di stabilità che hai bisogno adesso di fare un salto di qualità di livelli come dire di investimenti che cambiano la struttura come dire anche della concezione dell'uelfare quindi probabilmente saremo chiamati a questa sfida c'è un punto che spesso viene come dire abbiamo assunto lo dico perché l'unica cosa che ho scritta che voglio leggere per evitare di dare un dato sbagliato noi abbiamo un tema che riguarda l'occupazione femminile che è un punto vero e che salda i processi di emancipazione ma anche di questa idea di cambiare il mondo attraverso un'idea di autonomia piena c'è il dipartimento della presidenza del consiglio presso il dipartimento di pari opportunità che ha fatto da pochi giorni nel suo sito ha divulgato i dati relativi ad un finanziamento che ha comportato investimenti di oltre un miliardo e duecento milioni e sono stati erogati quindi dalla presidenza quasi 790 milioni di euro alle start-up femminine di impresa quindi di impresa femminina piccole le start-up sappiamo tutte che cosa sono è micro impresa molto piccola di donne ma che testimonia che questa richiesta così massiccia di autoimprenditorialità femminile è anche la risposta a una delle crisi più profonde economiche che noi abbiamo dovuto affrontare dopo il dopoguerra e le donne quindi si sono reinventate dentro un meccanismo dell'imprenditorialità chiedendo allo Stato di avviare convenzioni per l'accesso al credito che spesso è penalizzante per quanto riguarda le imprese femminile c'è una convenzione che oggi il governo fa con l'ABI e con le associazioni di categoria a sostegno di questa questione del credito ma sono misure che noi dobbiamo assumere dentro una visione che ci permette di dire che un governo che oggi vede la maggiore presenza di donne nella legislatura che la vede nelle sue punte anche importanti del governo oggi è in grado di aggredire quel nodo e quel nodo va aggredito perché più donne che lavorano migliorano i dati della società in maniera più complessiva e ci permette di poter ragionare in termini molto concreti di una questione che oggi il ministro ripeto è in una vicenda dolorosissima ma che ci ripone un tema molto serio lei ha melito una bambina di 13 anni per due anni è stata sottoprata da un gruppo di giovani e c'è stato però una reazione di quel paese un po' omertoso il tema della violenza sul corpo delle donne ci interroga profondamente e quindi interroga anche come noi stiamo esercitando la nostra funzione politica sta avvenendo come dire una sorta di scissione tra l'idea che una generazione di donne aveva ricongiunto il suo corpo la sua lettura e consapevolezza di sé e ne aveva fatto anche un elemento di forza politica con l'idea nelle nuove generazioni e in una velocità di velocità che è di internet e di spezzettamento tra l'idea del valore di sé e l'idea anche spesso di un corpo che viene utilizzato in situazioni di crisi da parte di elementi maschili per rimettere al centro la questione del dominio maschile sulle donne è come dire il potere e quindi concludo quando viene aggredito anche nella sua rappresentanza e quindi deve cedere posti a due reazioni o quella di dire che non contiamo nulla ma se contiamo cerca gli anticorpi e lo fa mettendo come dire di nuovo in difficoltà proprio questo elemento come dire della sessualità e del corpo e da ragione Marisa Rodano il valore che ci hanno consegnato quelle donne che nessuno avrebbe detto se erano belle se erano brutte se erano grasse se erano basse merano le donne come soggetto politico deve tornare ad essere l'elemento sul quale anche le giovani generazioni quindi quello che noi consegniamo a questo elemento di frontiera ci portano a dire che non è un femminismo dire che non bisogna diventare omologo ai maschi è semplicemente un messaggio positivo che la politica è fatta della propria soggettività e le donne di questo paese le donne italiane sono portatrici di saperi di forza che oggi non devono chiedere più nessuno il permesso bisogna solo agirlo il cammino è lontano ma grazie a quelle donne e anche come dire alle donne che oggi vivono questa fase politica viene consegnato un patrimonio di relazione di cultura e di rigore che lo si mette insieme e lo possiamo vincere questa sfida se tutti insieme ricostruiamo un vero sapere impegno delle donne nella stessa esercizio della politica grazie grazie a Stesamici si può concludere dicendo lei citava l'uso del tempo delle donne cioè che sono essenziali credo che abbiamo usato molto bene questo pomeriggio il nostro tempo grazie a tutte